buongiorno a tutti sono simone d'appas consulente alle vendite volkswagen presso la sede euro car italia di udine oggi ho il piacere di presentarvi nuova t rock r il primo crossover anabolizzato di casa volkswagen grazie al motore 2000 tsi 4 motion da 300 cavalli che combinato al cambio dsg a 7 rapporti permette a t rock r di scattare da 0 a 100 in 4,8 secondi raggiungendo la velocità massima di 250 km all'ora il nuovo frontale caratterizzato dal design r permette a t rock di distinguersi al primo sguardo con il nuovo schema verticale per il led degli indicatori di direzione e le ampie prese d'aria del parauti questi elementi in combinazione con i nuovi dettagli racing come lo spoiler sportivo l'impianto frenante high performance con pinze r nere le minigonne e i quattro terminali di scarico a krapovic conferiscono al crossover un'identità decisamente sportiva e ora andiamo ad ammirarla dall'interno per ricevere maggiori informazioni relative alla nuova t rock r vi aspetto assieme ai miei colleghi le nostre sedi di udine trieste villa vicentina gorizia e gemona vi aspettiamo grazie a tutti